come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto molto bene l'avete visto dal titolo dalla copertina non so cosa guardate prima comunque parliamo un attimino della segna di inclusione perché perché pare ci siamo sapete che ci stiamo avvicinando sempre di più alla scadenza di fine mese ok non è novità e comunque pare proprio pare proprio che ci sarà l'anticipazione delle lavorazioni al 23 avete capito bene sappiamo sappiamo perché lo sappiamo ormai da cos'è luglio luglio agosto giù di là l'inps non ha più dato non ha più dato il calendario ufficiale dei pagamenti secondo me secondo me non l'ha più dato perché ha visto che tanto alla fine non riuscivano a rispettare le scadenze tra i pacciocchi dell'inps tra i pacciocchi delle poste io ti ho dato i soldi no io non li ho ricevuti si tu me li hai dati no c'è stato un problema tecnico non l'ho ricevuto di qua di là alla fine le date di pagamento non quadravano mai nel senso non combaciavano mai una volta li davano prima una volta li davano dopo una volta li davano durante un pacciocco hanno fatto e allora cosa ha fatto l'inps secondo me ha detto basta io non do più le date quando esce esce buona nota secchio della serie facciamo un tipo un'estrazione a sorte tanto più o meno le date sono sempre quelle 15 27 poi perché branca su e giù un giorno prima giorno meno più o meno arrivano e come ragionamento ci può anche stare tanto più o meno i giorni sono quelli no quindi da voce di corridoio che ho trovato scoperto pare proprio che le lavorazioni saranno fatte a partire dal 23 quindi c'è buona speranza che il pagamento verrà fatto dal 25 mi raccomando solo una cosa come sempre è la più importante in pratica allora le lavorazioni sono diverse dalle disposizioni o trasmissioni lavorazione vuol dire semplicemente che l'inps sta lavorando la questione ecco poi c'è la trasmissione è lì che è lì che la storia cambia perché nel momento in cui c'è la trasmissione vuol dire che l'inps sta trasmettendo attenzione le parole all'inps sta trasmettendo è quella la data di trasmissione è quella più importante perché alla fine vi fa capire che stanno trasmettendo ok comunque poi voi tanto lo sapete che le lavorazioni poi inizia appunto la voce di corridoio iniziano il 23 e quindi comunque andando avanti e poi altra storia importante siccome che il 27 cade di domenica potrebbe anche lì capitare che magari non tutti potrebbero ritrovarsi il pagamento il giorno lavorativo quindi si parla del 25 è facile che qualcuno si ritroverà anche il pagamento il 28 siccome che il 28 guarda libri col calendario siccome che il 28 e di lunedì e alla fine ci sono poi quattro giorni quindi sono 28 29 30 e 31 sono quattro giorni ci mancherebbe un giorno quindi alla fine cosa succede che effettivamente essendo cinque giorni per i pagamenti e considerando che c'è sabato la domenica di mezzo è quasi quasi scontato quasi è di condito proprio quasi scontato che il pagamento arriva il 25 quindi sarebbero 25 poi 28 29 30 e 31 quelli sono i classici cinque giorni e poi vabbè le possano sempre tempo fino a fine mese per pagare tutti quanti vabbè ma questa è una cosa vecchia che già sapevamo anche da già da rdc prima di concludere il video vi ricordo la convenienza dell'abbonamento al mio canale di youtube trovate maggiori informazioni qui sotto a questo video oppure direttamente nella home page come vedete qua nella home page del mio canale di youtube quindi andate la sotto il mio nome cliccate sul collegamento si apre un menu e da quel menu potete abbonarvi al canale la convenienza dell'abbonamento è che avete la priorità assoluta dei commenti sotto i video la priorità assoluta dei commenti all'interno delle dirette live più i vari pacchetti di abbonamento c'è tutta una serie di video riservati solo agli abbonati in più in più con l'abbonamento vip tra l'altro tra le varie cose oltre avere tutte le agevolazioni degli altri abbonamenti avete anche la possibilità di avere una sessione telefonica di 30 minuti con me personalmente quindi io la trovo una cosa molto molto vantaggiosa quindi andate nella home page del mio canale di youtube cliccate su quel menu liquid quello sotto il nome cliccate lì e abbonatevi al canale oltre e tra l'altro lì oltre a trovare l'abbonamento trovate anche tantissime altre informazioni quindi veramente veramente utile bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao